Ragazzi, c'è qualcosa da dire? Ieri l'ho accennato, non mi sono soffermato tanto sull'episodio, sul fatto della disparità di trattamento e di giudizio. Sapete che io batto molto su questo. Non mi stupisco, se mi chiedete ma ti stupisci ancora? No, non mi stupisco, però è giusto evidenziare queste cose, è giustissimo evidenziarle. Allora, io non sono uno di quelli che si attacca sulla frase finale della Rai quando è andata via, non so, la luce, che cazzo è? Siccome non parlavano della Juventus e della partita lì, vabbè. Però, dopo andiamo sui telecomisti Rai. Dopo due giorni, non un mese o due mesi, due giorni, due giorni. Chi mi dice che il rigore di Colibali, il fallo di mano di Colibali, era involontario, quindi non era rigore, quello di ieri era netto, quello di Benatia, allora è in mala fede, non è credibile ed è uno stronzo. Va bene? Questo è. Io ieri ho ammesso che il rigore di Benatia è netto. Adesso mi riferisco agli Juventini. Non ditemi, eh ma c'è stato il tocco a 30 cm da Benatia. Ok, sono d'accordo, questo argomento lo tiro fuori per affrontare quelli che dicono Colibali, fallo di mano, questo e l'altro, era involontario quando il tiro è arrivato da 2-3 metri almeno, ok? Rispetto ai 30 cm di Benatia. Però, in entrambi, in entrambi i casi, i casi, sì, i casi, ok? C'è, secondo me, secondo me, l'imprudenza di due giocatori. Ok? Due rigori sacrosanti. Ma non è possibile che, quando c'è la Juventus, vanno a vedere, anche se un nostro giocatore caga, va bene, in bagno, e vanno a vedere il VAR, ok? E per il Napoli, il VAR non è mai, mai, mai stato usato. Mai, mai. Non so se a San Paolo hanno il monitor a questo punto, o l'hanno fregato, non lo so. Perché è impossibile ed è inconcepibile. Adesso arriviamo all'altro punto. Adesso leggerete un post preso da giù le mani dalla Juve, ok? Ogni cazzo di fallo che faceva l'Atalanta si poteva lasciare correre. Ogni cazzo di minimo contatto di un giocatore della Juventus su un giocatore dell'Atalanta era fallonetto. Questa è la telecronaca vergognosa della Rai. Telecronaca vergognosa pagata da noi, da noi cittadini italiani, soprattutto noi gobbi, noi gobbi. Telecronaca vergognosa e io mi sono rotto i coglioni. Io non sono come altri youtubers che hanno detto dopo Juventus Torino in Coppa Italia, sì ma è stata una vergogna non sentire la telecronaca. No, io ho goduto cazzo nel derby, non sentire questi stronzi che fanno la telecronaca. Sembra anti-Juve Channel, perché non Napoli, Roma, Lazio Channel, perché ovviamente ti fanno quelle tre squadre, poi anche Milan e Inter se sono contro di noi. No, è proprio anti-Juve Channel. Dovete chiamarvi anti-Juve Nazionale Channel, non Rai. Poi c'è gente come Repice, o l'altro che adesso non mi viene il nome, Cucchi, che sono due opinionisti, due telecronisti che, ok, tifano uno Lazio, se non sbaglio, Cucchi, e Roma, Repice, ma sono due telecronisti, a mio avviso, i più obiettivi possibili. Ieri ho visto un'altra vergogna, dopo due giorni, da Napoli-Bologna, rigore uguale, identico, ok, uguale, identico e per certi versi forse anche meno netto rispetto a quello di Colivali, dato che l'altro era un tiro in porta che andava in gol, va bene, quello era un passaggio che non si sa dove il cazzo sarebbe andato, ok, e poi la telecronica vergognosa della Rai, che ha tifato in una maniera vergognosa l'Atalanta, cioè, dite, noi tifiamo contro la Juventus, ditelo, e non prendeteci per il culo, perché vi conosciamo ormai. Spero che facciate altri scioperi, perché io voglio sentire l'audio dello stadio, anche se ieri eravamo a Bergamo, ok, preferivo sentire i tifosi atalantini che ci cantavano Juve merda, va bene, ok, Juventino pezzo di merda, perché quelli sono tifosi dell'Atalanta e ci sta, ma a voi, a voi bastava che dicevate proprio questo, cioè Juve merda, perché è quello il vostro scopo. Poi ripeto, altra cosa, i giornalisti, tra virgolette, di sto grandissimo cazzo che twittano su Twitter, no, rigori di Colivali di domenica, involontario quindi non c'era, quello di ieri netto, quello di ieri netto, la vostra incoerenza, la vostra incoerenza, ma da gente che è stata cagata e non partorita, che cazzo vogliamo pretendere? Ragazzi, vi auguro buona giornata a tutti, però questo dovevo dirlo perché, non perché me l'hanno chiesto altri, ma semplicemente perché oggi ho riletto un po' e ho analizzato meglio la telecronaca, tra virgolette a Rai che è telecronaca e poi i giudizi che sono nel web o sul web, come volete dire, e anche da parte dei giornalisti, che dovrebbero essere obiettivi. Giuliani ha detto la cosa giusta sabato a GTV, cioè, io, voi sapete che sono juventino, quindi se venite qua sapete che vedete una trasmissione di Juventina, ma quelli che sono, fanno gli intellettuali, ok, e non sono intellettualmente onesti, fanno gli opinionisti in trasmissioni nazionali, dovrebbero essere neutrali, e non sono neutrali, quelli sono, è una cosa più grave, perché preferisco un tifoso dell'Atalanta che mi dica Juve merda, lo ripeto, che un telecronista che gli manca solo quello, che dica? Bene, buona giornata a tutti, forza Juve sempre, andate a fanculo.